di una giovane dissoluta che in sogno assistette alla sua condanna e per grazia della Beata Vergine si pentì e fu perdonata. Un altro grande esempio è quello che il Beato Alano riferisce. Vi era una giovane ragazza che faceva molte cose sbagliate ed era una donna lussuriosa. Avvenne così che fu iscritta nella confraternita del salterio della gloriosa Vergine Maria, denissima madre di Dio. Ora la ragazza ebbe una visione molto orribile, infatti fu condotta in spirito davanti a Dio e vedeva da una parte la Vergine Maria e dall'altra i nemici dell'inferno. Ora uno di loro portava un libro in cui erano scritti tutti i peccati di questa ragazza, in numero così grande e così detestabili e abominevoli che era una cosa orribile da vedere. Ahimè, ahimè, sono dannata e perduta, ripeteva. E mentre si trovava in questa grande angoscia, la Vergine Maria disse, vuoi sapere se i tuoi salteri che hai detto poche volte peseranno sulla bilancia quanto il libro con i tuoi peccati? A queste parole venne portata la bilancia e vi furono messi tre o quattro salteri che la ragazza aveva detto e furono pesati con questo grande libro che non pesava nulla rispetto a questi salteri. Allora i diavoli se ne andarono, gridando a scorciagola, facendo orribili rumori e fuggendo con grande furia. questa signora ci sta distruggendo. La Vergine Maria diede alla ragazza cinque rose e le ordinò di piangere tutti i suoi peccati. Poi le disse che d'ora in avanti avrebbe fatto così tanto bene nel mondo e per le sue preghiere e le sue buone azioni che quel libro sarebbe stato cancellato. Così la povera ragazza si svegliò dopo quella visione e trovò le cinque rose nella sua mano, mutò la sua vita e servì la Vergine Maria recitando il salterio e facendo grandi penitenze. Ed erano meravigliose le opere buone che faceva. E infine per il suo buon nome e le sue buone virtù la gloriosa Vergine Maria la portò nel regno del paradiso che ci è stato donato dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.